Tre cene che nobilitano l'olio DOP cartoceto e le eccellenze no gastronomiche, tre luoghi suggestivi, altrettanti concerti e sei itinerari per scoprire un territorio unico e plurale. Parte da Fano conterranea, il progetto voluto dai comuni e dalle proloco dell'areale della DOP con il patrocinio della Regione Marche. Il primo percorso è quello che congiunge storia e scienza. Infatti il viaggio si aprirà l'11 giugno dalle ore 19 nel giardino del Museo del Bali con uno spettacolo musicale cui seguirà all'interno della villa una cena preparata dal cuoco e foodblogger Giuseppe Di Pasquale. Singolare questo naming che è stato scelto perché rimanda a questa idea della contemporaneità e soprattutto anche dell'essere comuni ad un unico territorio, quello appunto dell'areale. E al tempo stesso ovviamente suggerisce questo forte legame con la terra e con l'agricoltura propria ovviamente di questa nostra eccellenza di cui disponiamo, ovvero la DOP Cartoceto. È sicuramente frutto questa iniziativa di un lavoro sinergico come ormai siamo abituati a fare nel caso specifico tra Cartoceto, Fano, Cogli al Metauro e Monbaroccio. Un obiettivo molto importante perché da diversi anni abbiamo coscientemente e consapevolemente scelto di allargare ovviamente le attività, le azioni di valorizzazione della DOP non soltanto concentrate sul nostro territorio ma appunto al territorio dell'areale. Volevamo esportarlo, volevamo fare con delle serate molto importanti, queste tre serate appunto a Cartoceto, a Colli e a Monbaroccio saranno tre serate di cene gourmet in location d'autore molto molto belle, rispettivamente Villa del Bali, Palazzo Guidovaldo del Monte e Piazza Marconi a Cartoceto con un intrattenimento musicale tra l'altro strutturato ad hoc per le tre iniziative.